Ciao a tutti da Valeria, eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento settimanale con Voglia di Cinema. Anche oggi sono qui per consigliarvi sui film in uscita nelle sale italiane da giovedì 26 settembre. Allora ci siamo, siamo pronti e iniziamo da... Redemption, identità nascoste. Ex agente delle forze speciali, veterano, assume una nuova identità. Quando la sua ragazza viene uccisa si ritrova risucchiato nel sottobosco criminale londinese dove diventa un angelo vendicatore in cerca di giustizia. Per gli amanti delle arti marziali e di Jason Statham. Altro film d'azione è Sott'assedio, White House Down. John Cale, agente della polizia di Washington, vede sfumare il lavoro dei suoi sogni con i servizi segreti per la protezione del presidente. In visita alla Casa Bianca con la figlia trova l'intero complesso preso d'assalto da un gruppo armato paramilitare. Si presenta così l'occasione che aspettava, proprio l'occasione giusta. Salvare il presidente, sua figlia e il paese. Esplosioni, pallottole e amore per la patria in questo film. In uscita questa settimana anche un film tutto italiano. Universitari molto più che amici. Federico Moccia ci porta nel mondo di Carlo, Faraz e Alessandro. Tre universitari che dividono una casa, Villa Gioconda. Ex clinica in disuso che il padrone ha deciso di affittare a studenti fuori sede. Tutto cambierà quando nella villa arriveranno anche delle ragazze, Francesca, Giorgia ed Emma. Film in perfetto Moccia. Infine vi consigliamo la pellicola scritta e diretta dalla brava Sofia Coppola, Bling Ring. Restiamo nel mondo dei giovani, ma questa volta ci spostiamo a Los Angeles, dove un gruppo di adolescenti è ossessionato dalla bella vita delle star hollywoodiane. Ossessione che porterà dei bravi ragazzi a rintracciare gli indirizzi di molte celebrità, arrivando a commettere dei furti dalle loro abitazioni per 3 milioni di euro in beni di lusso. Basato su un evento realmente accaduto, il film racconta la storia della banda più famosa di Hollywood, ribattezzata dai medi appunto Bling Ring. Che ne pensate, insomma, cosa vedrete voi questa settimana? Aspettiamo come sempre i vostri commenti e i vostri consigli, naturalmente. Ciao da Valeria e noi ci vediamo alla prossima Vaglia di Cinema.